o la ragazze buongiorno buongiorno e buon venerdì ci accendiamo al fine settimana e la carla blog non può fare a meno di preparare una ricettina è tipo una sbriciolata però dipende man mano che vado avanti cosa che viene in foro perché qua cara e qua carla blog non si può mai dire perché la proprio lo vado abbraccio io quando penso le ricette diciamo faccio così allora ragazzi oggi ragazzi sono in esperimento con una ricetta vi sto preparando una ricetta senza le uova me la chiedete in tante e allora è pronta oggi faremo una io li metto a lavorare ed è vero guardate qui che ho già tutto pronto io parto a lavorare e noi ci vediamo dopo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Take me as I am, take my life, I will give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for, I can't help it, there's nothing I won't know. You know it's true, everything I do, I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's no way unless you're there. All the time, all the way. There's no 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 way. You know it's true, everything I do, oh, I do it for you. You know it's true, everything I do, oh, I do it for you, oh, I do it for you, oh, I do it for you. You can't tell me it ain't worth it for, oh, I do it for you, oh, I do it for you. You know it's true, everything I do, oh, I do it for you. You know it's true, everything I do, oh, I do it for you, oh, I do it for you. I do it for you, oh, I do it for you. Allora, guardate l'interno di questo dolcetto meraviglioso. Eccolo qua ragazzi, va bene, lo assaggio io e dopo vi so dire, sì dai, stiamo d'accordo così. Tose, eccolo qua, lo vedete il dolcetto, eccolo qua. Adesso mi sono presa un pezzettino, eccolo qua, guardate l'interno, stiamo parlando che il mio dolcetto è senza uova. Assaggiamo! Bontose. E' buon, leggero, senza conservanti, senza uova, senza lievito, bella che cosa è, perché senza niente. Oggi è male, comunque è buono.